Missione compiuta, obiettivo centrato, storia riscritta. È il ritornello intornato in questi giorni nei tesserati del Christian Barletta che sabato scorso, pareggiando 3-3 il derby casalingo contro il Fuzz Alvisceglie, hanno conquistato dopo un lungo inseguimento alla qualificazione e ai play-off di Serie 2, un traguardo sfiorato nella passata stagione con i gradi di matricola e ottenuto per la prima volta in assoluto dal sudallizio bianco-rosso. Missione compiuta, obiettivo centrato, storia riscritta dunque, ma ora è già tempo di pensare ai play-off. Il Christian debutterà negli spareggi che mettono in palio la Prodo nella massima serie sabato 24 marzo, quando sfiderà al pala di sfida Mario Borgia di Barletta ai siciliani della meta nella gara d'andata di una delle due semifinali, l'altra metterà di fronte invece i calabressi dell'Odissia 2000 e i leziali dell'Ido di Ostia. Il ritorno si giocherà sette giorni dopo nel domicilio dei Catanesi a San Giovanni La Punta. I play-off partono tutti da zero, quindi i valori del campionato possono essere tranquillamente sovvertiti, poi noi partiamo come sfavoriti e quindi questo è un vantaggio per noi e cercheremo di sfruttarlo quando meglio possibile. Sappiamo che noi siamo una squadra da alti e bassi, sappiamo che quando giochiamo con squadre che sono superiori tiriamo il meglio di noi stessi e su questo fatto cercheremo di costruire dei play-off per regalare qualcosa di buono al nostro paese. Sappiamo che è una squadra troppo forte che hanno quedato secondo nel campionato e vediamo che succede, non lo so. Nel play-off tutto può succedere, se la prima partita alla casa vinciamo, dopo noi giochiamo tutto di là. Hai che giocare la partita per vedere che va a succedere. Missione compiuta, obiettivo centrato, storia riscritta, dicevamo. Grande soddisfazione sì, a pagamento invece no. La meta, seconda al termine della stagione regolare, non ha ottenuto la promozione diretta in Serie A solo perché ha incontrato sul proprio cammino la capolista dei record Maritime Augusta. L'impresa si presenta ardua, ma il Cristian non ha alcuna intenzione di recitare la parte della vittima annunciata. Vuole continuare a stupire e magari a scrivere un'altra pagina di storia.